Buonasera ragazzi dalle serate al top, stasera siamo in trasferta a Bucarest, le bellissime fontane a tempo di musica, peccato che la musica non c'è, colorate, illuminate, uno spettacolo veramente dal vivo è qualcosa di fenomenale. Siamo in trasferta a Bucarest, come già detto, e domani sera saremo all'evento del Cont al Control, che è una bellissima discoteca che si trova in un immenso parco, dove al pomeriggio andremo a visitare anche quel bellissimo locale che si chiama Agrocaffè Bucarest. Spero che non hai messo nessuno. See you soon guys!